La guerra dell'acqua è finita. Dopo anni di battaglia, il comune di Merate alza bandiera bianca e procederà ad avvallare la fusione di idrolario, società nata come patrimoniale e da tempo senza alcuno scopo, in Lario Reti Holding, chiudendo così il processo di riassetto della gestione del servizio idrico nella nostra provincia. La scelta, finora sempre avversata dall'amministrazione guidata da Andrea Massironi, è stata determinata dalla sentenza con la quale la Corte di Appello ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dal comune di Merate contro il pronunciamento che aveva impedito alla città brianzola di recedere dal capitale sociale di Lario Reti Holding. In soldoni, Merate ha sempre contestato il progetto di riorganizzazione del servizio idrico per diverse ragioni, sia normative sia economiche. Ogni iniziativa giudiziale posta in essere dall'amministrazione, rivendica però Massironi una nota, è stata sempre unicamente finalizzata al doveroso e puntuale rispetto della vigente normativa in materia di affidamento e gestione delle risorse idriche. La nostra azione, prosegue il sindaco, ha comunque consentito di evitare di percorrere la strada dell'accessione del ramo d'azienda a suo tempo proposta dall'Arioreti Holding e dimostratasi impercorribile. Inoltre ha fatto sì che l'Arioreti si dotasse dei requisiti prescritti dalla legge al fine della gestione del servizio idrico nel territorio della provincia di Lecco, secondo lo schema dell'affidamento in house. Non tutto il male viene per nuocere, sostiene dunque Massironi. Al comune di Merate la scelta di opporsi fino ad oggi al progetto è costata solo in appello 12 mila euro. Ai cittadini della provincia di Lecco molto di più, come spiega Antonio Rusconi, presidente del comitato di indirizzo e controllo di Larioreti Holding. Beh, anzitutto, cos'è costato ai cittadini di Merate? Questo dovrà rispondere nel sindaco Massironi, penso parecchio perché già aveva dovuto, per poter fare l'appello, rifondere all'Arioreti 60-70 mila euro. Questa sentenza che sottolinea questo aggettivo più volte infondato, cioè il giudizio che viene dato sull'appello e che è del tutto infondato, di fatto condanna anche, oltre a tutti i costi che il comune di Merate ha dovuto sostenere, a pagare 12 mila euro di spese legali sostenute dall'Arioreti. Però questo è un problema che Massironi e la sua maggioranza e la sua giunta dovrà spiegare ai suoi cittadini. C'è un altro dato. Con questo atteggiamento di fatto ha mantenuto in vita Idrolario, nonostante il parere contrario della Corte dei Conti negli ultimi due anni, che non ha dipendenti, che di fatto non svolge più nessuna funzione e che costa per essere mantenuta in vita almeno 100 mila euro all'anno tra amministratore unico sindaco, ovvero revisore dei conti, impiegato, tenuto in vita i servizi, bilanci, eccetera. È tutto perché l'azionista di riferimento, ovvero il comune di Merate, che ha più del 20%, si ostina a rifiutarsi di fare la fusione con l'Arioreti dopo che c'è stato l'affidamento per 20 anni del servizio idrico. Io spero che questa sentenza molto chiara porti alla ragionevolezza e porti i sindaci a ragionare insieme. Il comune di Merate, il secondo comune è il territorio, io non sono per prendere rivincite, sono per dire ricominciamo a lavorare seriamente insieme nell'interesse dei cittadini e di non buttare i soldi ai cittadini.